Gentili telespettatori, buona giornata. Silvio Berlusconi contro tutti, no? Sembra un film, no? Berlusconi contro tutti. Questa volta, sempre negli audio che sono venuti fuori, probabilmente qualcuno dice sono stati fatti venire fuori, dice che nel mondo non ci sono leader, né in Europa, né negli Stati Uniti. Quindi un attacco diretto agli Stati Uniti e a tutte le cancellerie europee e anche ovviamente alla Meloni. Dicendo non ci sono leader in Europa e negli Stati Uniti significa che neanche la Meloni è un leader, secondo Berlusconi. Ma c'è un unico vero leader. Un unico vero leader che è lui. L'unico vero leader è lui. Insomma, non sappiamo più che cosa potrà dire domani Berlusconi, ma lui dice che dopo un pomeriggio di polemiche interviene in serata. Dice che in 28 anni di vita politica la scelta atlantica, l'europeismo, il riferimento costante all'Occidente come sistema di valori e di alleanze fra paesi liberi e democratici, sono stati alla base del mio impegno di leader politico e di uomo di governo. Come ho spiegato al Congresso degli Stati Uniti, l'amicizia e la gratitudine verso quel paese fanno parte dei valori ai quali fin da ragazzo sono stato educato da mio padre. Nessuno, sottolino, può permettersi di mettere in discussione questo. Non può certamente permettersi di farlo la sinistra che tante volte è stata dalla parte sbagliata della storia, tantomeno la sinistra del Partito Democratico che anche alle ultime elezioni, meno di un mese fa, era alleata con i nemici della Nato e dell'Occidente. Il leader di Fratelli di Forza Italia e di Forza Italia se la prende anche con chi ha catturato le immagini finite su tutti i siti. Dice che tutto questo però non esisterebbe se non vi fosse in Italia la pessima abitudine di trasformare la discussione politica in pettegolezzo, utilizzando frasi rubate, registrate di nascosto e appunti fotografati con il teleobiettivo, con un metodo non solo sleale ma intimidatorio, un metodo soprattutto che porta a stravolgere e addirittura rovesciare il mio pensiero, usando a piacimento i brandelli di conversazione, attribuendomi opinioni che stavo semplicemente riferendo, dando a frasi discorsive un significato del tutto diverso da quello reale. La colpa non è degli organi di informazione, ovviamente costretti a diffondere queste notizie e di chi usa questi metodi di dossieraggio indegni di un paese civile. Senza questo non sarebbe necessario ribadire l'ovvio. Quindi secondo Berlusconi è colpa di chi ha tirato fuori gli audio, è colpa di chi ha fotografato, poi i media devono riferire quello che il fotografo e quello che ha passato gli audio e viene saltato fuori. Quindi secondo Berlusconi è colpa di questi infedeli, di questi personaggi, anche se io personalmente ho il grande sospetto che gli audio e gli appunti facciano parte di una ben meticolosa strategia messa in atto proprio da lui per impedire a Lameloni di governare e far sì che Lameloni mandi tutti a quel paese. Non gli sta riuscendo fino adesso ma ha alzato il tiro sempre più in alto, tirando fuori adesso la storia dei regali con Putin, le dolci lettere. È una strategia per far sì che Lameloni dica basta, con Forza Italia è finita, andiamo di nuovo alle elezioni. Un Forza Italia che potrebbe allearsi con la sinistra e a questo punto la sinistra potrebbe avere anche assieme a Calenda, Conte, Renzi e tutti gli altri avere un incarico per formare il governo tornando a una sorta di governo di unità nazionale formato da tutti tranne Fratelli d'Italia e forse anche da Salvini. Salvini che potrebbe all'improvviso anche passare lui dall'altra parte e continuare col governo che c'è stato fino adesso, per due anni, con alla guida Draghi o qualcun altro che prenda il suo posto, un'altra sorta di tecnico messo lì, magari di nuovo, da Mattarella. Quindi tutto quello che abbiamo visto in questa settimana, questi ultimi sette giorni da parte di Berlusconi, realmente secondo me è molto molto sospettoso. Possibile che sia tutta questa mole di coincidenze? È difficile, eh? Gli appunti a favore di teleobiettivo, le dichiarazioni su Putin, le dichiarazioni sulla Meloni, le dichiarazioni sui ministri che lui ha detto che la Meloni gli ha dato, che non era vero. Quindi sembrerebbe che tutte queste dichiarazioni siano fatte proprio per non far partire questo governo. Nessuno mi toglierà la testa che sia così. Prima di arrivare alla consegna da parte della Meloni a Mattarella della lista dei ministri, ci vogliono ancora due o tre giorni, dove Berlusconi potrebbe dirne ancora sempre più pesanti per fare in modo magari che la Meloni torni da Mattarella e dica non posso formare una maggioranza, rimetto il mandato nelle sue mani. Potrebbe succedere, la Meloni l'ha anche detto. Può anche non cominciare questo governo, se le condizioni sono queste. È una situazione che, vi ricordo, se andassimo nuovamente al voto a gennaio, il PD, Movimento 5 Stelle, Calenda e Renzi, più gli altri partiti di sinistra messi insieme hanno il 50%. Il centrodestra, non so in che modo si ripresenterebbe, ma avrebbe come oggi il 44%, vincerebbe la sinistra allargata a Calenda e Renzi e governerebbero loro per cinque anni. Immaginatevi un governo, un governo Conte, di nuovo Conte al governo, o Letta, o Calenda. Che alle prossime elezioni potrebbe esserci il boom di Calenda, eh. Guardate che Calenda è un personaggio, vedrete, vedrete. Quel partito come crescerà, perché Calenda è uno che piace. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. A frappè, come dicevano nel driving, drive, 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 driving.